Una giornata che cade proprio nella giornata nazionale contro le malattie del sangue il 21 giugno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è una giornata intitolata al progetto Itaca, Sognando Itaca, che è un progetto di velaterapia che mira a portare i pazienti a veleggiare insomma le barche a vele e poter anche avere qualche nozione di come si sta in mare, di come si va a vela, proprio per cercare di alleviare un po' le sofferenze dei pazienti ematologici nel lungo cammino purtroppo della malattia. La ricerca ultimamente ha fatto passi da gigante, possiamo dire che negli ultimi dieci anni queste malattie che prima erano purtroppo una condanna attualmente possiamo dire che almeno il 75-80% delle malattie del sangue sono curabili. Tutto questo noi dell'Associazione Italiana contro le icemie sosteniamo attraverso borse di studio, finanziando progetti di ricerca e assistendo sempre di più le strutture ematologiche nonché i pazienti propri familiari.